Perché ieri ci siamo lasciati con te che dicevi che è stata una giornata di ordinaria follia italiana. Oggi ci siamo ripresi? Oggi è una giornata di ordinaria routine della politica politicante. Perché dopo lo psicodramma di ieri, oggi è il giorno in cui i professionisti della politica cercano di riprendere in mano la tela strappata del governo di minoranza per l'appunto, perché di questo stiamo parlando dopo il voto di ieri, per provare a metterci una pezza. Per stare alla domanda che tu facevi all'ingegnere, io non penso che sia un bene, però penso che sia un male minore il fatto che il governo, almeno nella giornata di ieri, non sia uscito definitivamente di scena, perché in questo momento non ce lo possiamo permettere. Dopodiché, appunto, oggi il fatto saliente è che il Presidente del Consiglio, tuttora a Palazzo Chigi, cioè Giuseppe Conte, è salito al Quirinale a riferire, a quello che si sa, al Presidente della Repubblica, Mattarella. Ecco, allora, se c'è un aspetto positivo nella giornata di oggi, forse è proprio questo. E cioè, in una crisi al buio, in cui si procede a fare i spenti alla ricerca di queste anime perse del Parlamento, facendo finta che debbano costruire, chissà perché proprio adesso c'era tutta questa esigenza, se non ci fosse stata la crisi mai sarebbe insorta, di creare il nuovo centro democratico, liberale, socialista, europeo, popolare, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo nella speranza appunto che diventi un partito. La cosa positiva è che di questa vicenda comincia a occuparsi finalmente il Presidente della Repubblica, che io credo che appunto, nella notte in cui tutte le vacche sono nere, nella quale siamo precipitate, può essere l'unico faro che può accendersi e dare una rotta ad una crisi che altrimenti, secondo me, rischia di portarci, se non ha un altro gioco, alle elezioni. Ma concretamente che rotta può dare? La rotta che può dare intanto è fissare alcuni principi, alcuni paletti di base, che sono quelli che sono sempre stati a cuore al Presidente. Cioè, l'idea che pure ieri Conte ha carezzato, perché nel suo discorso l'ha anche detto a un certo punto, e cioè rivolgersi anche ai singoli parlamentari, ai singoli parlamentari pentiti della loro avventura, sia all'interno della destra, sia all'interno appunto di altre forze politiche, come la stessa Italia Viva, ecco, questa via è preclusa, perché un governo che deve affrontare, lo diceva bene prima l'ingegnere De Benedetti, sfide che fanno tremare i polsi al governo tedesco di Angela Merkel, tanto per dire, figuriamoci se le possono affrontare governi come quello italiano che si appoggiano al sì dei singoli, che dovrebbero dare una fiducia in cambio della quale poi chiedono cose, perché poi il Presidente l'ha detto Conte, faremo un rimpasto, se prendi 15 singoli, a 15 singoli devi garantire qualcosa. Ecco, su questo Mattarella, io credo e sono convinto, fisserà il suo paletto e dirà no, almeno questo ci sia risparmiato, perché così andiamo a sbattere, non andiamo da nessuna parte. Allora... Quindi almeno fate un gruppo parlamentare, poi non basterà forse neanche quello, ma mi sembra la condizione minima per avviare la ricerca. Beppe Severnini?